Io non posso votare Marco Doria perché è troppo sobrio e tecnico. Doria è sicuramente una brava persona, avrebbe un problemino, è comunista purtroppo. È comunista e non voglio che mangi la mia bambina. E ce n'è anche un altro a dire la verità, che Bagnasco non lo vota, quindi le vostre nonne dovranno mettersi il cuore in pace, però noi lo sosteniamo lo stesso. E non posso votare Marco Doria perché si chiama Doria, è juventino e io sono genoano. Secondo voi per chi voto? Chi fa Genoa? Voto Doria. Voto Marco Doria perché Genova merita di tornare in Serie A. Io non posso votare Musso perché sennò quando vado a ballare il sabato sera i tavoli più belli sono già riservati. Voto Doria perché non ride mai, ma non ha niente da ridere. Sostengo Marco Doria come sindaco della coalizione del centro-sinistra per la sua costante attenzione e preoccupazione per i temi del lavoro. E mi auguro che abbia la possibilità nel suo ruolo di sindaco di promuovere per la Fincantieri la ricostruzione fedelissima, una riproduzione anastatica dell'ingrociatore Aurora e che possa essere messo nel 2017 al largo della Fiera di Genova durante l'edizione del Salone Nautico. Nel 2017 ricorderanno i cent'anni della gloriosa riproduzione di Ottomio. Io non posso votare Musso perché quando vado a farmi la lampada la troverei già occupata. Musso perché quando vado a farmi la propria riproduzione di Ottomio, come facciamoci a pagliare le